Ciao a tutti, sono Fabio Bottero, sindaco del comune di Trezzano sul Naviglio in provincia di Milano. Con piacere ho conosciuto la storia di Emanuele Viglini che mi ha colpito subito fin dal momento in cui me l'hanno raccontata e altrettanto mi ha colpito l'impegno che ha intrapreso fin da subito il papà di Emanuele Cianpietro e tutta la sua famiglia naturalmente con la fondazione Eman Pesciolino Rosso. E quindi ho subito aderito alla proposta che mi è stata fatta di ospitare la carovana del Pesciolino Rosso e come data è stato stabilito appunto il 26 di ottobre, domenica 26 ottobre, l'attrezzano sul Naviglio quindi avremo il piacere di ospitare la carovana e per una iniziativa naturalmente benefica che fin da subito vogliamo divulgare al massimo per poter raccogliere fondi e per sostenere l'attività della fondazione. Per quanto riguarda il comune di Trezzano sul Naviglio, quindi io, l'assessore ai servizi sociali Sandra Volpe abbiamo subito deciso di invogliare i ragazzi di Trezzano sul Naviglio a partecipare e nello stesso tempo chiediamo che la carovana possa proseguire naturalmente come poi l'intento degli organizzatori, gli organizzatori che mi piace ricordare qui che oltre a Gianpietro Ghidini sono Giancarlo Prandelli e Mauri Povia e in questo senso invito un sindaco di un comune limitrofo a Trezzano sul Naviglio che è il sindaco del comune di Vermezzo, ossia il dottor Andrea Cicullo ad organizzare un'iniziativa simile quanto prima nel suo comune. Quindi passo a te Andrea e testimone.